Il modello tedesco per l'accoglienza diffusa di rifugiati e richiedenti asilo arriva anche in Italia. È stata presentata a Milano la versione italiana del network Refugees Welcome, organizzazione che già opera nel nostro paese da luglio 2015. Da oggi però, grazie alla piattaforma web, sarà possibile, per chi vuole ospitare un profugo nella propria casa, essere messo in contatto con le cooperative che gestiscono gli arrivi e naturalmente essere anche preparati per un compito che al di là dei fondi previsti dal governo è tutt'altro che scontato. Dopo un anno di test, Facebook si prepara a lanciare la sua versione professionale dedicata alle aziende e al mondo del lavoro. La nuova versione del social network che farà la sua comparsa ufficiale nei prossimi mesi si chiama Facebook at Work. Avrà tutte le funzioni di quella tradizionale, dai like alle notizie alla chat, a cui si aggiungeranno funzioni specifiche ad esempio in merito alla sicurezza. La versione beta è su invito e gratuita, in futuro invece verrà chiesto un pagamento mensile per i servizi premium. Il 2015 è stato l'anno della musica su YouTube, soprattutto in Italia. Come tradizione, il sito ha diffuso i video più visti nel mondo e nei singoli paesi e per gli utenti italiani non c'è stato alcun dubbio. Il video più cliccato e apprezzato è stato quello dei Rocky Mille, i mille musicisti che hanno suonato l'Earth to Fly per convincere i Foo Fighters a esibirsi a Cesena.